ciao e benvenuti in un nuovo video allora come ogni mese siamo qui con le blitzing box italiane e francese questo nel mese di novembre 2023 ed andiamo a vedere le differenze che ci possono essere tra una e l'altra io le ho ancora chiuse tutte e due sono tolto le etichette ma scritto sopra ovviamente come sempre italiane e francesi in modo da ricordarmi quali sono partirei come sempre dalla francese che è questa andiamo ad aprirla ok ed è molto carina in questo verdino allora prima di aprirla vi ricordo che qui sotto c'è un calcio sconto per avere 10 euro di sconto sullo shop ed è sui vostri acquisti vi ricordo anche che la box ha un prezzo di 16 e 90 più spedizione quindi andiamo a 20 euro in totale adesso andiamo ad aprirla ok qui c'è sempre la spiegazione il codice qr che vado a scannerizzare io per vedere i prezzi e il valore dei prodotti perché tanti ovviamente sono i mini sites e la raddrizzo e ve la mostro ed eccola qua allora non so come guardarli a questo punto partirei da qui e andrei in là andiamo così allora green barbes urban nature gommas visio visio con acido di frutti ok questo è un 30 ml scrabbe visio 30 ml e andiamo a vedere vero preparato più o meno è un travel sites e viene 13 euro cioè questo ha un valore di 13 euro sono stati fatti i conti come sempre prezzo totale e valore della full sites per la quantità di questo quindi 13 euro questo poi non so come di qua come sempre garanzia la pelle della foresta richiamo della foresta questa la conosco già è una crema luminosa e giovinezza allora questa è 10 ml è piccolina ed è chiusa e la tengo chiusa ecco esatto perché è una crema abbastanza leggera ma è leggerla leggermentissima clorata proprio a uniformare non è una bb cream è meno una bb cream ma la utilizzo preferibilmente in primavera estate quindi per adesso la tengo chiusa questo è 14 euro poi andiamo avanti io devo vedere questo perché è delizioso rituals è proprio fatto a spruzzino è un perfumatore d'ambiente per casa con latte di riso e cherry blossom fiori ciliegio ok questo è un quantità sto cercando è un 50 ml ma guardate quante è delizioso cioè funzionerà devo aprire ah c'è scritto open oddio se me lo sparo addosso open c'era la piccola levettina qui ecco ok buono 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 per gli ambienti questo ed è carino piccolino ma buono profumo si sente un sacco allora questo viene 3 euro così pensavo di più ma profuma un sacco mi piace un sacco wow poi andiamo con questo uh aromazon non sapevo che facessi prodotti aromazon è un brand che conoscevo anni anni fa che vendeva le materie prime naturali per fare i cosmetici questo è un siero all'acido ialuronico col 3,5% la quantità è un 10 ml sono proprio curiosa sono proprio curiosa perché aveva dei prodotti davvero di qualità allora è un travel size anche questo è il valore di 2 euro quindi costa anche pochino sono curiosa lo metterò subito alla prova poi altro prodotto che è questo pomponne le fantastic è un blush ok è un blush in stick questo è il colore molto pigmentato molto pigmentato aspettate che non voglio macchiarmi o altro proviamo a vedere se allora si si sfuma però è bello pigmentato ne basta davvero poco però è bello è molto carino e questo è un full size 27 euro a questo punto io devo capire che cos'è questo ma io ma sono massi tutte calme tutte calme e de parfum una quinta no guardate c'è la confezione è bellissima è una fialetta di profumo tutte calme e de parfum ma son mattina Potrebbe dire le cardamomo, neroli, limone. Ora non lo sento perché ho il cherry blossom qua, però è carina anche l'idea di metterlo non proprio così, ma in una pochettina chiusa. Allora, vedo un'altra cosa qui. Ah, Aromazon ha proprio fatto i prodotti cosmetici già preparati, questo è un codice sconto che però vale solo in Francia. Carina però l'idea, carina l'idea. Per acquistare il siro concentrato all'acido ironico da 100 ml, mentre noi abbiamo il travel size da 30, o la ricarica. Oh, bello che faccia anche le ricariche. Ma noi adesso andiamo a fare un recap dei prodotti. E abbiamo Aromazon, che abbiamo detto. Ah, la fiatta di profumo penso che sia un omaggio. Pompon, il blush. La crema garanzia, l'aprile della forel, che va benissimo se non vi toccate o se non volete solo uniformare il colorito. Green Barb, il gommaggio viso, è questo della rituascia che vale pochissimo come prestamento tra euro, ma è fantastico. Poi se si può ricaricare, credo di sì, è comodo, c'è proprio da tenere, è comodo, mi piace un sacco. Il valore di questa box è di 59 euro e vi ricordo che il costo era di 20, ma adesso noi mettiamo via tutto e accoggiamo perché andiamo a vedere la stessa cosa però della versione italiana, che è questa. Allora, la versione italiana invece c'è un altro link qui sotto, dove avete 5 euro di sconto sulla vostra prima box. Questi tipi di QR che ci penso io, ed è dunque, vi devo anche dire che il prezzo della box invece in questo caso è di 16,90 euro. Finiti. Alla box è questa, 2, 4, 5 prodotti, eccola qua. Vediamo un prodotto che è uguale, il Pompon, sempre 27 euro, sì. Altri prodotti che mi sembra di avere visto, però non mi ricordo se è in altre box o nei primari dell'avvento. Ad esempio, questi due, a me sembra di averli già visti, forse quella francese potrebbe essere. Ui Gens, questo è il siero a rimpolpante Bonmine, è un siero per il viso leggermente, forse nel calendario, un siero per il viso leggermente rimpolpante. Questo è un 15 ml e questo è il siero. Mi piace, l'ho provato, forse l'ho anche finito, non mi ricordo, però sì, si asciuga velocemente. Mi piace, è 15 ml, 10 euro di valore. E anche questo l'ho già visto, ma mi piace. Skin City, vitamin A, C, D, E, omega 3, 6 e 9, è un siero nutriente per il viso della mira. Allora, intanto tengo chiuso perché ho l'altro che sto usando. È un siero, non è un olio, è un siero, però è un po' poco per la sera, ma troppo per il giorno, per la mia pelle mista. Allora faccio che, quando, dunque adesso non c'entra niente, sto utilizzando la crema retinolo, perché io in inverno uso le creme retinolo e mi piacciono moltissimo, discorso a parte. Però, quando ad esempio faccio uno scrub, faccio un'esfoliazione, dopo come crema notte, no, metto una crema retinolo e allora vado a mettere questo. Perché mi piace, mi dà una buona sensazione, non mi appiesantisce, ma su questo tempo se la pelle è rossata mi migliora. Quindi uso in questo caso, ecco come usare gli oli in inverno. Qui è già assorbita, quindi ok. E vi devo dire il prezzo che anche questo è un travel size da... 30 ml, secondo me è un calendario, potrebbe essere, perché mi ricordo il fatto che non c'era scritto, devo leggerlo sotto. 30 ml ed viene 4 euro. Poi andiamo avanti con i prodotti che non conoscevamo, quindi due. Voila Body, crema corpo idratante, 40 ml, utile, utile, vediamo, è chiuso, la lasciamo chiusa perché è delle altre. E questo viene 3 euro il valore. E ultimo prodotto, Specialogy, shampoo riparatore con proteine naturali di keratina e olio d'arganne. E' un 60 ml e il valore è 2 euro. Allora, recap di questa box. Stesso prodotto è il pompon, il blush. Poi abbiamo shampoo e crema per il corpo. Poi è un po' più completa perché abbiamo poi l'olio per il viso e la crema per il viso, è un siero. Quindi l'olio per la sera e il siero per il giorno. E' un po' più completa ma ha un valore di 46 euro. Quindi a voi le conclusioni su quale vi è piaciuta di più. A questo punto io richiudo il tutto. E niente, a questo punto del video fatemi sapere voi quale prodotto, quale box vi ha esperato di più, quale delle due vi ha incuriosito, quale vi ha anche pensato che fosse più completa di tutto ed quale acquistereste nel caso. E niente, io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!